Sì, siamo arrivati alla quinta edizione di questo Bright Night, la notte delle ricercatrici e dei ricercatori e grazie all'Università di Siena, al Centro di Geotecnologie e a San Giovanni Valdano da cinque anni. Siamo molto soddisfatti perché in questi anni siamo riusciti a costruire una rete che unisce direttamente l'amministrazione immunale, il CGT, le scuole del nostro territorio per una tre giorni dedicata interamente alla scienza e quindi alla ricerca a 360 gradi. Partiamo mercoledì 25 settembre per concludere tutti i lavori sabato 28 settembre. Il giorno clou sarà venerdì appunto dalla mattina al pomeriggio, le nostre due piazze saranno arricchite dagli stand in cui sia il Centro di Geotecnologie che i nostri istituti scolastici esporranno tutti gli esperimenti e tutte le attività e le iniziative a cui hanno lavorato e che poi saranno visitati da altre scuole ma anche da semplici cittadini. La sera concluderemo al Teatro Masaccio con uno spettacolo dedicato a Margherita Hack e interpretato da Ginevra Di Marco. Quindi l'invito a tutti a partecipare al Bright Night.